l'innovazione per la sostenibilità per me significa lanciarsi verso sfide nuove per per far sì che i consumatori riescano a comprendere facilmente quello che le grandi aziende stanno stanno facendo anche a beneficio della collettività come avvocati la sfida che stiamo affrontando in questo momento è come assistere nel miglior modo possibile i nostri clienti a livello trasversale e direi che abbiamo superato due due grandi sfide come come studio la prima è quella di porci degli obiettivi di sostenibilità all'interno della nostra struttura organizzativa la seconda sfida è quella di capire il valore della sostenibilità sia per i nostri clienti sia per noi stessi e avere coraggio nel farlo per primi insieme ai nostri clienti mi auguro e auguro a queste aziende di implementare i programmi che hanno che hanno in mente e di raggiungere i target di sostenibilità ambiziosi che si sono dati che ho sentito e che ho sentito oggi